Molto tempo fa eravamo così distanti. Da allora siamo cambiati ed evoluti. Il percorso è stato lungo, ma alla fine ci siamo trovati. Per non dividerci mai più. Ogni giorno i nostri amici a quattro zampe fanno del loro meglio per migliorare le nostre vite. Trainer è la gamma di alimenti che è al tuo fianco per aiutarti a migliorare la loro. Trainer, segui la sua naturale evoluzione. Scopri tutti i nostri prodotti su trainer.eu Grazie a tutti.